prossima tappa l'iccato ora ci aspetta un bel po di strada sono lì ora ti porto io faccio vedere si andiamo da franco de caro che è una nostra conoscenza però poi io ti porterò a vedere un vivaio tecno plant che fa piante per uso professionale e in questo periodo sicuramente staranno preparando le piante per il peperone perché inizia la campagna peperone una campagna molto importante per l'icata sono proprio voglioso di farti vedere come come l'agricoltura si stia specializzata e li stiamo parlando ora di orto floro viveismo 2.0 l'agricoltura 4.0 ma i vivaio sono ancora vivaio altamente tecnologici quindi le certificazioni di qualità e di garanzia sul prodotto capito molto molto interessante sono curioso di vederlo ciao francesco ciao grazie di averci ospitato nella tua rivendita grazie a voi noi siamo abbiamo un rapporto tra iritec e de caro da tanto tempo quindi è un incontro piacevole una trentina d'anni una trentina d'anni sì ti volevo chiedere come va il mercato dell'irrigazione a goccia in particolare a modo quello della manichetta che ho qui al mio fianco il p5 e il p1 e qual è principalmente la coltura che oggi all'icata va più di frequente le culture se abbiamo qua carciofo zucchino in tunnel e peperone e dopo andiamo a fare del melone sia su in tunnel e insieme tutto con una reazione a goccia passo passo 30 40 15 20 30 dipende dalle culture che ci sono in confronto a 30 anni fa 20 anni fa quando avete cominciato a fare irrigazione a goccia la competenza del dei vostri clienti è maggiore o ha ancora quello stesso torpore di una volta e maggiore quindi siete perché sì 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 ci sono dei giovani pure che operano in campo quindi questa cosa ci fa piacere c'è molta competenza è una speranza l'ora dell'altura per i giovani dovrebbero più focalizzarsi speriamo speriamo che favoriscano il marchio ipvitec infatti poco fa è venuto un cliente dice voglio la manichetta o la ipvitec siamo felici e contenti di questo ti ringrazio grazie a voi ci vediamo più avanti nella storia dell'irrigazione ciao 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 franco venire qua è sempre un piacere da tanti anni che collaboriamo abbiamo fatto diverse giornate tecniche abbiamo parlato dell'altacore qui abbiamo lanciato il veri marco il benedio tanti prodotti ora prossimamente parleremo dallo steward ancora prima quindi ora ci troveremo a parlare anche di biostimolanti parleremo di più in là tra qualche mese ti presenteremo anche l'accudo come vedi in questi anni quindi questi incontri li abbiamo fatto anche con gli agricoltori allora in questi anni c'è stato un cambiamento abbastanza notevole specialmente nell'ultimo dici anni è stato un bel cambiamento c'è stato fortunatamente in bene non non in male anche per un discorso per un impatto ambientale per il rispetto verso la natura sì questo incontro mi ricordo abbia fatto anche con gli interventi utili proprio abbiamo dimostrato con i nostri prodotti sono selettivi per la selettività certo un grande strumento che abbiamo in più a disposizione no sì 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 il veri marco è stato di di gradimento un po' di tutta la nostra clientela anche perché essendo che si fanno insetti utili parecchi insetti utili si sono fatti negli ultimi due tre anni è stato uno strumento molto utile complimenti ancora grazie insieme per un'agricoltura sostenibile un'agricoltura Grazie a tutti. Grazie a tutti.